Abbiamo saputo che i medici South che hanno bisogno di un corso di aggiornamento visto le nuove mansioni a cui dovranno essere chiamati da qui a poco dovranno svolgere un corso di aggiornamento che l'Asla ha previsto solo nel territorio a nord della provincia quindi a Salerno e a Nocera. Abbiamo scritto una lettera di protesta al commissario di rivedere questa decisione di pensare che c'è anche un sud che viene troppo spesso trascurato. Noi abbiamo grossi problemi, inutile che diciamo sempre le stesse cose, di viabilità, di paesi che si spopolano e c'è bisogno di una presenza delle istituzioni anche su queste cose che sembrano banali ma banali non lo sono, da svolgere su questo territorio. Poi noi abbiamo un ospedale che è quello di emergenti di terzo livello nel decreto 49 e abbiamo le professionalità adeguate per poter seguire queste lezioni poter interagire con questi nostri colleghi che lavorano in prima linea anzi colgo l'occasione per ringraziarli tutti per il preziosissimo lavoro che fanno quotidianamente. Il sindaco Aloi annuncia poi un'importante iniziativa per i bambini del Cilento saranno aperte 5 ludoteche, l'occasione viene data dal piano di zona S8 che vede Vallo della Lucania, comune capofila. Poi lunedì appuntamento storico per la città di Vallo dopo 33 anni sarà approvato il nuovo PUC. È un'iniziativa del piano di zona fortemente voluta dalla amministrazione di Vallo che comprende una serie di ludoteche distribuite sull'intero territorio che vanno a Gropoli, a Monte Corice e quindi quella di Montano quindi non trascurante neanche il Cilento interno. È un'iniziativa che poi avrà un suo prosieguo e che sarà ospitata nei locali del comune in attesa dell'inaugurazione del parco Stella del Mattino che verrà da qui a poco. Colgo l'occasione per ricordare ai nostri cittadini e che ci sarà un altro passaggio importante in questi giorni lunedì 21 faremo uno dei consigli comunali secondo me più importanti di questa consigliatura che è quello per l'approvazione del PUC. Finalmente dopo 33 anni arriveremo all'approvazione di questo importante strumento di pianificazione di cui la città si sente orfana da tanto tanto tempo e che penso possa rilanciare l'economia del territorio e la possa rilanciare anche da un punto di vista sociale e culturale perché è uno strumento importante. Da quanti anni era attesa? È da oltre 30 anni quindi è uno strumento molto importante ripeto è il consulio comunale più importante che questa amministrazione ha fatto nella sua consigliatura però è un'altra cosa che avevamo promesso di portare a compimento e ci siamo vicini.